Antonio Imbimbo, quest'anno hai svolto praticamente da dicembre fino a qualche settimana fa il ruolo di preparatore dei portieri del Campobasso. Non abbiamo svolto tante interviste insieme. Che tipo di gestione è stata in questi mesi? Nei quali di cose ne sono successe davvero tante? Io sono arrivato qui a Campobasso a dicembre. Alla fine di questo percorso sento il dovere di ringraziare innanzitutto il mister Antonio Foglia Manzillo che mi ha dato l'opportunità di vivere questa esperienza, anche se poi verso la fine purtroppo le nostre strade si sono divise per vari motivi. Però secondo me è stata un'esperienza che a mio parere è stata fondamentale, sia dal punto di vista professionale che umano. Secondo me fin da subito ho sentito il calore della piazza, della città, dello staff che hanno posto in me subito la mia fiducia, passando anche per i magazzinieri, arrivando fino al simbolo di questa società e di questa città, che è Antonio Minodeo che per me è stato come un fratello maggiore. Ecco, tu sei giovanissimo, 25 anni, dunque una delle prime esperienze da preparatore atletico. Due parole proprio sui portieri, ecco, ne hanno girati tre, ne sono girati tre tra Landi, c'è stato anche Borrelli in porta. Un commento proprio sui portieri del Campobasso. Beh, da subito si è stato un ottimo rapporto di fiducia con i tre portieri. Per me, ti ripeto, io prima ho lavorato sempre nel settore giovanile e per me è stata la mia prima esperienza in ambito di prima squadra. Come sai, nelle varie categorie del settore giovanile si bada un pochettino ad altri tipi di lavori che in prima squadra. Però alla fine mi sono trovato benissimo con tutte e tre. Mario ha fatto un ottimo campionato, che oltre ad avere delle buone qualità tecniche, secondo me ha dimostrato una grande personalità nel guidare la squadra nella fase difensiva. Praticamente un uomo molto importante, si è sempre messo in discussione Gianni, ecco, con grande voglia di apprendere. Nulla a togliere a Francesco Borrelli e a Vincenzo Riccio, che sono due ottimi portieri e secondo me hanno visto in lui un punto fondamentale di crescita e spero che loro nel corso della loro carriera possano intraprendere la strada che intraprenderà ecco Mario. Ecco, l'ultima cosa, diciamo, lo staff tecnico e i giocatori hanno un po' il fiato sospeso in questi giorni di attesa per avere gli stipendi promessi dalla società, ovviamente promessi anche a voi, dello staff tecnico. Come stai vivendo questi giorni e che cosa ti auguri per il futuro? Beh, in questi giorni ci stanno dicendo tante parole, tante ma tante anche bugie, ecco. I fatti parlano chiaro e come i ragazzi stanno aspettando gli stipendi. Anche noi, dello staff, li parlo anche sottoscritto, deve aspettare gli stipendi. Guardi, io per l'amore per questa società, gli ultimi tre mesi lo sai che abbiamo fatto. Non abbiamo fatto solo i preparatori dei portieri, abbiamo fatto anche altro. E nemmeno essere gratificati è veramente brutto. Però la passione per questo sport va oltre. Però il mio augurio che mi faccia è che il Presidente possa saldare tutto e che questa società possa ritornare al calcio che conta.